vado? ok, ecco qui ecco qui, benissimo allora, mettiamo anche un po' di illuminante e con l'olanda appunto ti ho detto cosa volevo usare e vado con, anzi dimmi te con cosa vado a illuminare perché io posso avere diverse opzioni, posso usare sia questo qui ed è un qualcosa di un po' più leggero, un po' più diciamo diffuso ma leggero, se vuoi qualcosa di più preciso uso questo qui se no, se vuoi qualcosa di molto molto diciamo forte perché comunque va fin qui e tutto quanto usiamo questo e sarebbe tutto qui andiamo con questo qui bene allora andiamo con questo qui ok ok e prendo il colore scimerino mi ricordo come si chiama? ce ne ho scritto i nomi però, non ho più la mi ricordo la plastichina ok e vado giusto 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 sullo zigomo per proprio alzare lo zigomo ok perfetto e anche qui stupendo ti sta benissimo questo colore, questa palette è fatta per la bronzatura cioè letteralmente si chiama Peach Goddess ok io personalmente l'illuminante lo metto solo sugli zigomi lo vuoi anche sul largo di cupido, un po' sul naso? no ok va bene si nel senso comunque anche soprattutto che tendi un po' magari a sudare dopo sembra proprio sudore non ha senso invece qui bellissimo ok allora prima di tutto andiamo a mettere il colore di transizione quindi in realtà la devo riaprire e uso, 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 uso sempre uno di questi pennellini a sirena uso questo qui e vado a mettere il colore di transizione vado a mettere questo colorino appunto qui che è il bronzer bellissimo ed è fantastico come colore di transizione perché dà anche uniformità al viso essendo che si muovano lo stesso colore sulle guance e sugli occhi e anche illuminante sia sugli occhi che sulle guance adesso chiudi gli occhi benissimo ti tiro un pochino la palpebra immobile e vado o non vado troppo in alto ok sto comunque qui non lo estendo troppo che bello questo è un bellissimo colore di transizione per me sinceramente ecco qui l'altro occhio l'altro occhio qui vado a metterti il colore principale allora per il colore principale io pensavo a questo qui che si chiama celestial questa è la palette te la faccio vedere si chiama supernatural supernova supernova si chiama è sempre della BH Cosmetics che io è una marca che adoro è inutile adoro devo essere sincera questa palette ha dei colori molto belli dei colori un po' di illusione tipo questo è un colore un po' di illusione perchè non scrive io ci ho calcato proprio tanto perchè questo colore è bellissimo di sé però non scrive invece questo colore qui celestial che voglio usare su di te è pazzesco ti faccio vedere qui pazzesco lo vedi incredibile bellissimo io lo amo alla follia io vado a metterlo sulla tua palpebra direttamente col dito perchè secondo me è proprio il metodo migliore per questi tipi di ombretto quindi appoggia non riesco ad appoggiarlo ok e ti tiro sempre la palpebra ok mamma quanto è bello ok mamma mia è di un luminoso il tuo sguardo è bellissimo sei splendida guarda ma guarda c'è quanto ne è rimasto dopo che te l'ho messo pazzesco bellissimo uno dei miei paletti preferiti questa palette è molto bella l'unica cosa che non va bene per un trucco completo perchè sono tutti scimmerini quindi e poi allora ok andiamo prima a completare il look e mettiamo sempre per dare un po' più di profondità allo sguardo andiamo con questo colore qui molto scuro vediamo poco 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 chiedi gli occhi ne vediamo poco qui e poco qui ok ecco qui e con questo lo do proprio solo mettere e ne metto anche un po' sotto ok e poi andiamo a sfumare con sempre questo pennellino qui nel colore di transizione e sfumiamo sfumiamo tutto per bene che meraviglia sfumo 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 blablabla 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 ok che be lo e di ombrettini appunto andiamo a mettere come a tocco di luce a sempre ciò che abbiamo usato come illuminante quindi vado col dito anche qui chiudi ok aspettami ok ok sei una meraviglia uno schifo e una luminosità pazzesca con la bronzatura veramente bellissima ok poi vado a usare matita e mascara come matita io userei questa qui questo è un gajal della P2 P2 non so come si chiami ed è fantastica perché è nirissima morbida adattissima la palpebra interna quindi io vado semplicemente all'interno e cerco praticamente di andare fra le ciglia e sporcare un attimino anche all'esterno e dopo non metto eyeliner proprio per dare un look molto luminoso e naturale senza indurire lo sguardo ok e cerca questo pezzo non è forse troppo piacevole però cerca di resistere ti alzo un attimino la palpebra e vado qui proprio nell'anima interna verso le ciglia ok ci sei resti ancora un po' e dall'altra parte ecco qui tu non hai idea di quanto questo passaggio ti involtisca le ciglia tantissimo proprio fa la differenza io a volte mi trucco solo così metto proprio questo blush e ho finito ok poi passiamo al mascara il mascara io userei sempre per un effetto naturale ma ciglia nera 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 questo qui della Sephora che si chiama Cinescope ed è nella colorazione ultra black aspetta prima vuoi il primer per il mascara? così facciamo le ciglia super lunghe va bene tanto non abbiamo esagerato con gli occhi quindi si è bianco però tranquilla che dopo lo copriamo tutto ok questo è il volume booster della Essence io lo uso proprio quando voglio un volume molto lo uso quando voglio un effetto estremo parcialmente ok ok zm zick-zack zick-zack su 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 zickzack zick-zack su 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 su. ok non esagero e poi andiamo ad una bella passata del Sinescope si vedi ha uno scopino molto particolare le satole cortissime si le prende molto bene le ciglia ok e vado ok adesso ti chiedo un attimo di abbassare leggermente lo sguardo ok e vado a aumentare ancora più il volume praticamente se tu abbassi lo sguardo così stai molto attento non macchiarti se fai così si allungano tantissimo le ciglia quindi abbassa e vado proprio a incurvarle vado a incurvarle ok si quando lo fai da sola devi stare attenta perché a volte si rischia di macchiarsi tutto l'ombretto e non va bene però ok guarda giù ecco qua mamma mia ti sta una bomba questo trucco allora io passerei appunto alle labbra allora per le labbra io qui ho una bellissima scelta di nude se sei d'accordo guarda qui nuovo acquisto ce l'ho anche addosso ho le tinte di Jeffree Star queste sono le mini tinte dei nude infatti vedi open here for nude e abbiamo si chiama mini valure liquid lipsticks bellissima bellissima tada abbiamo questi rossetti uno due tre quattro cinque sei sette otto mini rossetti liquidi io li ho presi perché preferisco avere tanti colori ma poco perché tanto non ne uso tanto di solito e poi ho curioso di provarli è costato 50 euro l'ho preso da beauty bay allora ti dirò quelli che secondo me sono più naturali sulle labbra allora io in questo momento ho celebre tischina addosso del vozzo vedi si è un odore strano vedi questo qui è un siccome è un po' più da giorno devo essere sincera questi due sono da giorno sono da giorno poi abbiamo rose matter che però è un po' più romantico non lo so io sarei decisa fra questi tre androgin e androgini androgini non so è molto bello adesso ti faccio magari li swatch allora te li faccio su questa mano però è questa voce ad altri swatch ti faccio la ciminai che è questo nude è il più naturale di tutti questo risalzantissimo su qualsiasi tipo di labbra però diciamo che è forse un po' troppo nude per questa per questa serata poi abbiamo l'io e già questo secondo me è un ottimo candidato perché è un po' più scuro dato un po' di più alla sera infine secondo me un'opzione molto particolare ma anche molto interessante è androgini che ha una puntina di grigio un viola grigio vedi particolarissimo cosa scegliamo? bravissimo ma dai si androgeni e di questi l'unico difetto è che seccano un pochino tanto le labbra per questo ti ho messo il burro cacao come prima cosa e ne va messo pochissimo perché va un pochino nelle pieghe come puoi vedere però si è uno transfer ok allora poco 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 e poi ti chiedo di fare così ok adesso e vado a contornare no mi trovo benissimo in questo applicatore non c'è bisogno di usare una matita come te lo senti? è splendido ma se è una cosa pazzesca tieni spegnati ecco qui ok aspetta ok ti piace? col vestito questo è da dio sono soddisfattissima spero spero che ti sia piaciuto ti sei rilassata ok sì allora buona serata divertiti scatenati mostra un po' i tuoi occhi da cerbiotta e noi ci vediamo ci vediamo presto ok andiamo a fare colazione ci sentiamo ok mi racconti la serata benissimo allora un bacione divertiti ciao ho fatto proprio bene a scegliere questo grazie